...di tornare nei luoghi, di rifare delle cose che ci hanno reso felici. Ai bambini, grazie di origine. Ai bambini, riesci a prendere sempre. Enrico, una casa piena di libri, ma che rapporti hai con i tuoi libri, il libro anche... Oh, finalmente, siamo a Pisa! A cento all'ora dei tamales, grandissima! A Pisa! Internet festival, non so dove sarei, dove posso fermare? Tant'è la fame, tant'è la fame! Tant'è la fame, tant'è la fame! Tant'è la fame, tant'è la fame!